buongiorno a tutti benvenuti a questa lezione è una lezione che ho fatto a dupaia e riguarda la parte delle posizioni in piedi della stanga vinyasa quindi prepariamoci apriamo bene le spalle stiliamo bene le braccia dietro la testa per prepararci alla posizione dei samastiti rimaniamo in samastiti qualche istante cerchiamo di sentire bene il bilanciamento del nostro corpo il radicamento a terra portiamo le mani davanti al cuore ascoltiamo le nostre percezioni rimaniamo qualche istante in silenzio ascoltiamo tutto ciò che arriva da dentro le nostre emozioni manteniamo la nostra concentrazione troviamo il nostro focus e iniziamo la nostra pratica inspirando portiamo le braccia verso l'alto e espirando portiamo le mani lungo a terra inspiro guardo avanti passo destro passo sinistro scendiamo inspirando urdva mucca espirando adho mucca e si resta per cinque respiri quattro tre due respiri un respiro cerchiamo di sentire bene il flusso del respiro inspirando guardiamo avanti passo passo destro passo sinistro e spiro fronte verso le ginocchia inspiro porto le braccia verso l'alto e spiro samastiti inspiro braccia verso l'alto e spiro mani a terra inspiro guardo avanti e espirando salto passi indietro inspiro cani a testa in su e spiro cani a testa in giù e restiamo i nostri cinque respiri mantenendo la nostra concentrazione lo sguardo va verso la parte alta delle cosce cerchiamo di mantenere un allineamento con la nostra colonna vertebrale cerchiamo di sentire la nostra energia inspirando guardiamo avanti passi o salto e espirando fronte verso le ginocchia inspirando se risale verso l'alto e espirando torniamo in samastiti inspiro braccia verso l'alto e spiro uttanasana inspiro guardo avanti ardottanasana espiro salto indietro chaturanga inspiro urdva mukha svanasana e spiro adho mukha svanasana resto cinque respiri di nuovo cerco di sentire bene l'allineamento lo sguardo va verso la parte alta delle cosce cerchiamo di spingere i glutei i fianchi verso l'alto così da attivare maggiormente la catena posteriore le nostre gambe inspirando guardo avanti passi o salto e espirando fronte verso le ginocchia inspiro si risale verso l'alto e espirando mani lungo i fianchi ancora inspiro guardo il pollice e espiro mani a terra inspiro guardo avanti e espiro passi o salto chaturanga urdva mukha inspirando e espirando adho mukha svanasana restiamo i nostri cinque respiri cerchiamo di mantenere i talloni il più possibile a terra gli ischi spingono verso il soffitto lo sguardo va verso la parte alta delle cosce le mani spingono bene a terra manteniamo la concentrazione cerchiamo di sentire bene il nostro respiro inspirando si guardo avanti passi o salto e espirando fronte verso le ginocchia inspirando si risale verso l'alto e espirando braccia lungo i fianchi l'ultimo inspiro braccia verso l'alto e espiro fronte verso le ginocchia inspirando guardiamo avanti e espirando passi o salto inspiro urdva mukha e espirando cani a testa in giù rimaniamo ancora per i nostri cinque respiri quattro cerchiamo di sentire bene la profondità del nostro respiro rimaniamo spingiamo bene gli ischi verso il soffitto i talloni verso il pavimento sentiamo la nostra schiena inspirando guardiamo avanti passi o salto e espirando fronte verso le ginocchia inspirando si risale verso l'alto e espirando samastiti inspiro surya la mascara b posizione della sedia e espiro fronte verso le ginocchia inspiro guardo avanti e espiro passi o salto chaturanga inspiro urdva mukha e espiro adho mukha svanasana passo destro inspirando si sale nel guerriero 1 e espirando chaturanga inspiro urdva mukha ispirando adho mukha passo sinistro piede tra le mani inspirando si sale verso l'alto espirando di nuovo chaturanga inspiro urdva mukha e espiro adho mukha si resta ancora per cinque respiri quattro tre respiri sentiamo bene l'energia guardiamo avanti inspirando saltiamo espirando fronte verso le ginocchia inspirando posizione della sedia e espirando samastiti ancora inspiro utkatasana e espirando uttanasana inspirando guardiamo avanti passi o salto chaturanga inspiro urdva mukha e espiro adho mukha passo destro inspiro salgo nel guerriero 1 e espirando di nuovo in chaturanga inspiro urdva mukha e espiro adho mukha e espiro passo sinistro piede tra le mani salgo e espirando chaturanga e espirando cani a testa in su e espirando cani a testa in giù e restiamo sempre i nostri cinque respiri cerchiamo di sentire bene gli ischi che spingono verso il soffitto le scapole sono attive le mani spingono verso il pavimento i talloni cercano il pavimento inspirando guardiamo avanti passi o salto espirando fronte verso le ginocchia inspirando braccia verso l'alto e espirando samastiti inspiro utkatasana sguardo al pollice e espirando fronte verso le ginocchia inspiro guardo avanti passi o salto chaturanga e espiro urdva mukha e espiro adho mukha passo destro e espiro guerriero 1 e espiro chaturanga inspiro cani a testa in su e espiro cani a testa in giù passo sinistro inspiro guerriero 1 e espiro chaturanga e espiro urdva mukha e espiro cani a testa in giù restiamo per i nostri cinque respiri cerchiamo di spingere bene gli ischi verso il pavimento scusate gli ischi verso il soffitto i talloni verso il pavimento le mani sono forti spingono verso il pavimento lo sguardo va verso la parte alta delle cosce inspiro guardo avanti passi o salto e espiro fronte verso le ginocchia inspiro posizione della sedia ed espirando samastitihi ancora inspiro posizione della sedia e espiro guardo verso le ginocchia inspiro guardo avanti ed espirando scendo in chaturanga inspiro cani a testa in su espiro cani a testa in giù passo destro inspiro guardiaro 1 espirando chaturanga, inspiro cani a testa in su, espiro cani a testa in giù, inspiro passo sinistro, guerriero 1 e espirando scendo in chaturanga, inspiro cani a testa in su, espiro cani a testa in giù, si resta, manteniamo bene questa posizione, cerchiamo di sentire tutta la sua attivazione, ischi verso l'alto, talloni verso il pavimento, schiena attiva, sguardo verso le cosce, inspiro, guardiamo avanti, saltiamo, espirando fronte verso le ginocchia, inspiro posizione della sedia, espiro samastiti, inspiro posizione della sedia, espiro uttanasana, inspiro ardha uttanasana, espiro chaturanga, inspiro urdva mukha svanasana, espiro adho mukha svanasana, passo destro, virabhadrasana 1, espiro chaturanga, inspiro urdva mukha svanasana, espiro adho mukha svanasana, passo sinistro, inspiro virabhadrasana 1, espiro chaturanga, inspiro urdva mukha, espiro adho mukha, e si resta, cerchiamo di sentire bene l'attivazione della posizione, se sentiamo che le nostre catene posteriori sono un po' chiuse, ci muoviamo, flettiamo, estendiamo come se camminassimo sul posto, mantenendo sempre la schiena dritta, inspirando, guardo avanti, salto, uttanasana, inspiro, risalgo nella posizione della sedia, utkatasana, samastiti, espirando, inspirando, l'ultimo, espiro, scendo, inspiro, guardo avanti, passi e salto, inspiro, apro il petto, espiro, cane a testa in giù, passo destro, piede tra le mani, inspiro, salgo, espiro, chaturanga, inspiro, cane a testa in su, espiro, cane a testa in giù, passo sinistro, inspiro, guerriero 1, espiro, chaturanga, inspiro, cane a testa in giù, espiro, cane a testa in giù e si resta, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, inspiro, guardo avanti, passi e salto e espiro, fronte verso le ginocchia, inspiro, risalgo nella posizione della sedia e espiro, samastiti, mani sui fianchi, facciamo un piccolo saltino, apriamo i piedi, i piedi sono in linea sotto le anche, cerchiamo la nostra stabilità, si inspira ed espirando si scende, indice medio afferrano l'alluce, inspiro, guardo avanti, espiro, fronte verso le ginocchia, resto per 5, respiri, le spalle sono attive ma non troppo tese, cerchiamo di portare i gomiti verso l'esterno in modo che ci aiutino a scendere, inspirando, guardiamo avanti ed espirando, portiamo le mani sotto i palmi, portiamo i palmi sotto i piedi, scusate, il peso è in avanti, tutto il peso è sull'avampiede, come abbiamo fatto prima, ci tiriamo verso il pavimento, non stiamo sollevando i piedi ma i piedi ci spingono a terra, inspirando guardiamo avanti, espirando rimaniamo qui, inspiro, mani sui fianchi, espiro, chiudo i piedi, inspiro, passo destro, indietro, apro le braccia ed espirando scendo nella posizione del triangolo, se vi dà fastidio afferrare l'alluce, portate la mano sul collo del piede, si resta, cerchiamo di allineare bene la posizione, le spalle sono aperte ma non spinge indietro, si inspira, si risale ed espirando ruotiamo nell'altra direzione, si scende, cerchiamo di aprire bene il petto, spingiamo il petto in avanti, il fianco è aperto, una posizione dove l'anca è aperta e restiamo, lo sguardo va verso la mano rivolta verso il soffitto, si risale, si inspira ed espirando ci portiamo nella posizione parivritta triconasana, una torsione, cerchiamo di spingere bene sulla mano d'appoggio a terra, lo sguardo va sempre verso la mano verso l'alto, le gambe sono tese, più spingiamo il petto più la posizione si apre, si inspira, si risale ed espirando si scende dall'altro lato, portiamo la mano all'esterno del piede, se non riusciamo la portiamo all'interno, qui possiamo usare tutti i supporti che ci possono servire come il mattoncino, più spingiamo a terra più apriamo il petto, sguardo alla mano verso l'alto, si resta, sempre 5 respiri, e riportiamoci nella nostra posizione di Samastitthi, portiamo indietro la gamba destra, ruotiamo di nuovo verso destra, scendiamo più avanti possibile, le braccia sono aperte quando entriamo in questa posizione e lentamente portiamo la mano destra all'esterno del piede, scendiamo con il fianco, se non ce la facciamo manteniamo il braccio sul ginocchio, inspiro, salgo ed espirando ruoto dall'altra parte, stessa cosa, scendo espirando, mano all'esterno del piede, fianco che scende verso il pavimento, piedi ben appoggiati a terra, cerchiamo di creare una diagonale, si resta, il petto è aperto, inspirando si risale verso l'alto, espirando ruotiamo nella direzione opposta, andiamo in una nostra torsione, quindi cerchiamo di portare il braccio opposto alla gamba a terra, se non riusciamo ci portiamo nella posizione della preghiera con le mani, incrociando sul ginocchio, il braccio libero si distende in avanti, si inspira, ci riportiamo verso il centro ed espirando cambiamo direzione, stessa cosa dall'altra parte, gomito destro, oltre il ginocchio sinistro, cerchiamo di portare la mano completamente a terra, se siamo in grado, altrimenti portiamo le mani in preghiera oltre il ginocchio, distendiamo la mano sinistra, il braccio sinistro, il sguardo va alla mano, si resta, si inspira, si risale, si risrotola la posizione ed espirando, rientriamo in samastiti, inspirando andiamo ad aprire la posizione, braccia aperte e espirando portiamo le mani a terra, inspirando guardiamo avanti ed espirando cerchiamo di portare la testa verso il pavimento, gli alluci si guardano leggermente, cerchiamo di chiuderli un pochino, i gomiti non si divaricano, cerchiamo di allungare la colonna vertebrale, il peso è sull'avampiede, si inspira, si guarda avanti ed espirando portiamo le mani sui fianchi, inspirando si risale, apriamo di nuovo le braccia, inspiro e espiro, porto le mani sui fianchi, i pollici sono sui paravertebrali, inspiro in avanti ed espirando cerco di scendere portando la fronte verso il pavimento, come se volessimo inforcare il pavimento e si resta per 5 respiri, i gomiti non si aprono, cercano di mantenersi chiusi il più possibile, inspirando si risale verso l'alto e sciogliamo la posizione, inspirando apriamo di nuovo le braccia, espirando le portiamo dietro la schiena, intrecciamo le dita, si inspira ed espirando si scende, cerca di far scivolare le braccia più possibile in avanti, senza compromettere l'articolazione della spalla, si resta, più si ammorbidisce la spalla, più è facile la posizione, sempre i nostri 5 respiri, si inspira, si risale verso l'alto e lasciamo andare la posizione, inspiro, apro le braccia, espiro, afferro gli alluci con indice medio, fletto di nuovo i gomiti, inspiro, guardo avanti, espiro e scendo. Come abbiamo fatto con le altre posizioni, cerchiamo di mantenere i gomiti in apertura, in questa posizione, in modo che ci possano tirare più giù possibile, si resta, i nostri 5 respiri, inspirando, guardo avanti, espirando, risalgo verso la posizione, inspiro, ritrovo la fronte del tappetino ed espirando mi riporto in Samastiti, mani nella posizione della preghiera, giunte dietro la schiena, una mascara mudra, se non si riesce a fare questa posizione, afferriamoci i gomiti, passo destro indietro, il passo non è troppo aperto, si inspira, si apre bene il petto ed espirando, mento verso la tibia, lo sguardo va verso l'alluce, rimaniamo sempre i nostri 5 respiri, cercando di sentire l'allineamento verso la gamba, le anche sono chiuse, in avanti, non sono aperte, i palmi delle mani devono essere una contro l'altro, inspiro, guardo avanti e, espirando, ruoto dall'altra direzione e scendo, mento verso la tibia, di nuovo, resto, giù, cerco di sentire la chiusura delle anche, i nostri respiri, lo sguardo va verso l'alluce, restiamo, cercando di sentire l'equilibrio, i palmi sono uno contro l'altro, inspirando si risale ed espirando, torniamo in Samastitin, entriamo nelle nostre posizioni di equilibrio, quindi cerchiamo di stabilizzare il peso sui piedi, portiamo in avanti la gamba destra, inspirando, afferriamo bene con l'alluce, espirando, cerchiamo di avvicinare il mento alla tibia, fino a quanto riusciamo, cerchiamo la stabilità in questa posizione, sempre 5 respiri ed espirando andiamo ad aprire esternamente la gamba, lo sguardo va verso la spalla opposta, cerchiamo di sentire bene la stabilità sulle nostre anche, sul nostro piede a terra, le nostre spalle sono aperte, inspiro, porto in avanti la gamba, la faccio risalire, lascio andare la presa del piede e il resto per 5 respiri, cercando di mantenere la gamba e la caviglia sulla stessa linea dell'anca, piede a terra e faccio tutto dall'altra parte, inspiro, afferro il piede, espiro, lo porto verso l'alto, inspirando, preparo la posizione ed espirando, cerco di arrivare fino a dove riesco, non forzate troppo se non siete ben caldi, si resta per 5 respiri in questa posizione ed espirando andiamo ad aprire il piede esternamente, lo sguardo va verso la spalla opposta rispetto al piede, si resta, cerchiamo di sentire la stabilità sulla gamba a terra e espirando riportiamo in avanti, si risale e lasciamo andare il piede, si resta, i nostri 5 respiri, cerchiamo di mantenere la caviglia sulla stessa linea dell'anca ed espirando si scende, prepariamo la prossima posizione di equilibrio, andiamo ad aprire bene l'anca, ci portiamo in una posizione del mezzo loto in piedi, la mano destra afferra il piede dall'altra parte del fianco ed espirando portiamo la fronte verso la tibia, la mano sinistra appoggia a terra, cerchiamo di rimanere per 5 respiri, cerchiamo di sentire bene il bilanciamento sulla gamba a terra, si inspira ed espirando si guarda avanti, inspirando si risale e si scioglie la posizione, nel caso in cui abbiate dolore al ginocchio invece di fare questa posizione potete prendere la posizione dell'albero e rimanere sulla posizione dell'albero, questa è una posizione che si assume quando abbiamo delle problematiche all'articolazione del ginocchio che ci permette comunque di mantenere una posizione in equilibrio, espirando ci riportiamo in samastitì, espiro fronte verso le ginocchia, inspiro, guardo avanti, salto indietro, chaturanga, inspiro, urdva mukha, espiro, adho mukha svanasana, si guarda avanti, si inspira, si salta e ci portiamo con i piedi tra le mani, posizione della sedia, rimaniamo qui per i nostri respiri, cerchiamo di sentire l'allineamento della nostra schiena, non dobbiamo sentire dolore, se sentiamo dolore vuol dire che siamo in una situazione scomoda, dobbiamo sistemarci, espiro fronte verso le ginocchia, inspiro, guardo avanti, espiro, chaturanga, inspiro, urdva mukha, espiro, adho mukha, passo destro, inspiro, salgo, invira badrasana 1 e il resto, 5 respiri, le anche in questa posizione sono chiuse, cerco di sentire bene il peso verso il centro, lo sguardo va verso i pollici, inspiro, mantengo le braccia alte ed espirando ruoto nella direzione opposta, scendo, cerco di sentire bene la posizione, cerco di sentire la stabilità ed espirando vado ad aprire le braccia, le anche in questa posizione sono aperte, le spalle sono attive, si resta, si inspira ed espirando ruotiamo nella direzione opposta, assumendo la stessa posizione, e si resta, il sguardo va verso la mano davanti, verso il dito medio della mano davanti, espirando portiamo le mani a terra, cerchiamo di fare un piccolo salto per portarci in chaturanga, inspiro, urdva mukha, ed espiro, adho mukha, preparo il salto in avanti per entrare nelle posizioni al sedere e il resto nella posizione di dandasana.